Qualunque sentiero percorri nel giardino di destino, sarai costretto a scegliere, non una, ma tante volte. A volte i sentieri del destino ti appaiono in sogno e cominci a riflettere. Sogni i sentieri che hai percorso e quelli che non hai preso. I sentieri divergono e si ramificano e si ricongiungono e si dice che nemmeno destino sappia con certezza dove porti ogni sentiero, dove conduca ogni svolta ed ogni curva. Ma anche se destino potesse rivelartelo, non lo farebbe, perché mantiene i suoi segreti. E tu hai un unico modo di conoscere quel sentiero, percorrerlo fino in fondo attraverso la stagione delle nebbie. la stagione delle nebbie. Grazie.